ciao a tutti ragazzi è arrivata la preseason aggiornamento e tronic arts ha messo diversi contenuti come preseason appunto su fc24 che poi potranno essere utilizzati su fc25 è già successo nel video precedente vi ho fatto vedere che nella stagione si potrà andare arrivare a livello 30 e avere un pacchettino 5 per 84 più su fc25 ma stasera tronic arts ha varato la preseason per fc25 su fc24 quindi andiamo a vedere cosa c'è di nuovo ragazzi come sempre follow al canale youtube andiamo in game allora passiamo proprio dall'inizio ultimate team carichiamolo qui ci fa vedere praticamente la schermata di preseason andremo a vedere cosa c'è in praticamente però praticamente 6000 volte in pratica i giocatori che avete appena visto nella schermata sono quelli contenuti nel nei pacchettini no quindi è un po i più forti diciamo dei vari team footis che sono usciti però in più ci sono degli obiettivi da sbloccare delle sbc da fare per andare poi avere dei pacchettini in più su fc25 si parla anche di evo se ci avete fatto caso avete aperto foot e avete letto il messaggio di avviso si parla anche di evo infatti volevo andare a vedere questa cosa per la in primis vediamo sul sullevo se c'è qualcosa vediamola al volo non l'ho ancora guardata levo cecchino infallibile vabbè c'è qualcosina c'è qualcosina quindi bisogna andare a scartabellarle un po c'è qualcosa di interessante però voglio capire se magari levo ci dà pacchettini questo lasciamo un attimo in punto di domanda però andiamo a vedere gli obiettivini sto parlando come la mia figlia gli obiettivini in questo momento come vi ho fatto vedere nel video precedente nel precampionato noi arrivando a livello 30 avremo questo pacchettino 5 per 84 più e quindi riusciremo a averlo poi entro 10 ottobre se non ricordo male o dal 10 di ottobre viene dovrebbe essere droppato questo pacchettino l'avevo segnato prima però comunque se l'avete visto nell'avviso è dal 10 di ottobre poi poi negli obiettivi qui abbiamo perfezionista aggiornamento creazione precampionato completa la sfida creazione rosa aggiornamento creazione precampionato 100 volte per avere a parte la luci bronze futis e un pacchetto 82 per 5 da riscattare nel prossimo ultimate team quindi facendo questi obiettivi su fc 25 in ultimate team avremo un bel 5 per 82 più schifo non fa si fa abbastanza in fretta secondo me un centinaio si fanno ciclare abbastanza in fretta poi vediamo un po e qua non c'è nulla qua non vedo nulla pacchetti giocatori no allora eccolo qua invece per il club 1 andando a fare tutti questi obiettivi che sono semplici bisogna giocare delle parti segne in tre partite con dei giocatori con quattro giocatori di questo campionato quindi si possono fare due alla volta praticamente una volta terminate tutte si avrà la possibilità di avere su fc 25 un nuovo oggetto eroe base a scelta in prestito quindi attenzione potrebbe essere interessante il prestito comunque vi ricordo che non amichevoli non non vanno a intaccare praticamente i contratti per ora mi sembra di aver visto solamente queste negli obiettivi da da fare nelle sfide creazione rosa c'è da fare quella che viene ciclata 100 volte attenzione anche all'aggiornamento per il campionato questo esce tutti i giorni quindi bisogna entrarci e farlo vi costa un bronzino una cazzata in più questo aggiornamento creazione per il campionato bisogna farlo ciclare 100 volte qui dice ripetibile 75 giorni ci sarà l'update come vedete l'orologino tra sei giorni quindi potete fare 75 volte poi dopo altre 25 e via potete farlo ciclare secondo me ne faranno poi qualcosa in più però vedremo io cerco di farlo tutto altri aggiornamenti diciamo altre cose nuove non le ho viste su su questa parte c'è alvarez però non mi pare di aver visto entriamoci magari c'è qualcosa dentro ma non mi pare qualche sfida perché secondo me qualche sfida la picchiano dentro in qualche giocatore così dobbiamo farci caso farci caso però per ora mi sembra proprio di no nel caso se c'è qualcosa che mi è sfuggito fatemi spiegare nei commenti così andiamo a vederlo ok torniamo un attimo in regia ragazzi come avete visto su fc24 ci sono tanti contenuti da sbloccare per poi avere qualche pacchettino in più gratuito su fc25 male non fa sono gratuiti rifacciamo tanto giocare ci divertiamo non ci pesa sicuramente fare questi obiettivi e basta come dicevo prima se ho dimenticato qualcosa non l'ho visto fatemelo sapere nei commenti perché è molto importante cercare di partire al meglio occhio per occhio i pacchettini sbloccati da con questo questo passaggio da fc24 a fc25 verranno droppati dal 10 di ottobre quindi attenzione a attenzione e vi è stato sottolineato anche che per averli bisogna accedere a fc25 entro il 10 di novembre sicuramente li avremo tutti come a solito ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti se avete appunto come dicevo prima ho perso qualche via con qualche obiettivo nelle vie e come al solito fallo al commento invece al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti